benvenuti al canale bentornati il campionato 78 79 la schierata o formazione come vediamo dire della serie a ascoli vi mostro poi la formazione dell'atalanta la schierata dell'atalanta ricordiamo serie a 78 79 proseguiamo con la formazione dell'avellino ricordiamo quella schierata o formazione è una delle squadre scese in campo durante la stagione quindi stiamo analizzando la serie a 78 79 avellino bologna vedete come tutte le squadre maglie semplici senza sponsor calciatori con facce da calciatori il bologna la schierata in serie a anche il catanzaro quindi la formazione del catanzaro vedete questa figurina con lo stemmino in basso a sinistra stemmino mascotte e la schierata la formazione scese in campo una delle formazioni scese in campo catanzaro abbiamo poi i viola la fiorentina vedete il giglio perciò la fiorentina sono i gigliati la formazione dei gigliati in erazzurri la formazione schierata dell'inter e poi la juventus la juventus schierata 78 79 ancora schierate l'ane rossi vicenza formazione dell'ane rossi vicenza abbiamo poi la lazio il bianco celesti dopo la lazio abbiamo i rossoneri il milan il milan la schierata formazione del milan 78 79 e poi dopo il milan c'è il napoli il napoli schierata formazione più che altro questa è una fotografia una foto in campo fatta proposta proprio per le figure c'è anche l'allenatore qui quindi la schierata del napoli una formazione ma con anche gli allenatori in campo una formazione una schierata in partita però per il perugia a differenza del napoli il perugia una schierata formazione in campo perugia è il turno della roma la schierata formazione della roma poi abbiamo il granata il torino la schierata formazione il torino 77 78 serie a chiaramente se non 77 78 ma 78 79 serie a il torino il bello della diretta chiudiamo la carrellata delle schierate di serie a con la schierata del verona verona quindi la schierata formazione del verona 78 79 un saluto agli amici del canale mettete mi piace al video iscrivetevi al canale troverete la playlist con tutti i video delle figurine storie del calcio e calciatori attraverso l'album delle figurine e tanti altri video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti